Ciao ragazzi, Glory Hall, prima squadra che aprite in finale, grandissima partita, spettacolare, però a tratti diciamo, un po' di merda, alcuni coloro camboleschi diciamo, però alla fine la spuntate da voi, una bella semifinale, bellissima partita, spettacolare, la prima minuta fino alla fine, abbiamo dimostrato che siamo proprio squadra con i coglioni, perché quando siamo tutti abbiamo sempre vinto, quando siamo stati tutti, è la prima volta, quando siamo almeno 7 abbiamo giunto sempre bene, quando siamo 5-6 perdiamo sempre di tantissimo, soprattutto rispetto della sconfitta pesantissimi campionati, con Trenchina che ritorna, torna anche Guaresi, due innesti fondamentali per la tua sconfitta, ma tu ti è piaciuto benissimo, quindi vittoria di squadra e di cuore, Cacioppo, Elander, Cernigliaro, grandissima, grandissima, grandissima per Guaresi infortunato che gioca lo stesso, si sacrifica per me la squadra, e il carramato Cacioppo, grandi festazioni quest'oggi, va bene, adesso chi sperate? No, nessuno, chi sperate fai due? Un campionato, chi sono? Newcastle o a stanza, i migliori, speriamo i migliori, Newcastle o a stanza, Newcastle, in campionato avete vinto in campionato? Sì, in campionato sì, però se no vengono una partita pure, se è una che è l'altra vorranno riscattarla, ci vediamo in finale allora, in bocca al lupo, ciao ragazzi! E anche Newcastle sono qui in finale, venerdì si giocheranno una bella fetta di Serie A contro i Glory Hall È un avversario un po' tosto anche, è una bella squadra, hanno battuto 5-1 in campionato, no, sarà una bella finale C'è anche un po' di vendetta allora? Sì, però sempre calcisticamente, sportivamente Comunque, da quando ci sono Newcastle e l'Inter School, forse questa è la prima volta che vedo così in alto, eh? No, no, la seconda penso, eh? 2008, questa è la nostra terza finale, non c'eravamo, non c'eravamo, non c'eravamo, non c'eravamo, E anche prima, io, non c'eravamo, però è vero, eh? Col portiere, rispetto all'anno scorso, col portiere sia tutta un'altra cosa, eh? Sì, sì, il nostro piangessi, non so, comunque... Anzi, me lo aspetta nell'Inter School Story quella finale, Newcastle a 3 di Coscaiore, magari questa settimana Vedremo, vedremo, vedremo Beh, e comunque, col gloria spero che magari di vedervi al completo, perché oggi mancavano Tarantino e di domenica Infatti, dedichiamo loro questa vittoria a Tarantino e ai nostri ragazzi Ai nostri ragazzi non ci sono stati, sperando che la prossima ci sono, cercheremo sempre di vincere, di farcelo a tutte cose e di combattere fino alla fine State già pensando come fermare Guaresi? Eh, lo studieremo, lo studieremo Barbaro, Barbaro, Barbaro Barbaro è il nostro... Che non c'era nel 5-1 The Wall Abbiamo The Wall The Wall Quindi abbiamo The Wall E basta, siamo contenti di arrivare in finale, ora cercheremo di giocare Ci dispiace per gli astemi, perché io personalmente, ma penso anche i miei compagni, forse non ce la stiamo godendo fino in fondo Però ne approfitto, perché la sentiranno questa intervista, noi ce l'abbiamo messa tutta per aiutarli Sono stati sfortunati, però sinceramente se fossero andati loro in finale con un Barbaro o un La Duca Cioè, onestamente non mi sarebbe neanche piaciuta che sarebbe stata una partita falsata, quindi penso che... Mi dispiace in entrambi i modi, io chiedo di nuovo scusa a loro, però ho pazienza, veramente, sono sfortunato Ma non ci piace vincere la parte, ci piace giocarcela No, che poi comunque, aggiungo, non è stata facile, perché hanno giocato abbastanza bene, ci hanno fatto soffrire È vero, questo sì, sicuramente Io personalmente, dico la verità, la differenza numerica non l'ho vista Sembrava che loro giocassero in 5-2 Eh, ma quando c'è... Alioto, il piccolino fa... Alioto? Sì, ma tutti, tutti hanno giocato abbastanza Ne fa due, ecco Credibile, quello è più riuscissimo E basta, quindi mi dispiace Spero che loro lo capiscano Se non lo capiscono, pazienza Va bene, chiudiamola qua Alla prossima, grazie ragazzi, ciao, in bocca al lupo Ciao amore Ciao amore Bala tessa